creazzo mentre tutto il mondo guarda l'ucraina invasa dal mar amaldo putin una notizia quasi sfugge tra una velina e l'altra dal palazzo di giustizia fiorentino trapela che il procuratore capo giuseppe creazzo è stato trasferito quale sostituto procuratore alla procura dei minori di reggio calabria con un discreto ridimensionamento funzionale la cosa non è da poco perché il procuratore capo di firenze giuseppe creazzo con il procuratore aggiunto luca turco il sostituto antonino anastasi avevano subito un esposto di matteo renzi le carte sono il vaglio della procura di genova competente ad indagare sui magistrati fiorentini ricapitolando i fatti i tre magistrati fiorentini circa due anni fa avviarono un'indagine sulla fondazione open braccio finanziario delle annuali riunioni renziane alla ex stazione leopolda la procura attraverso 90.000 pagine di atti ha partorito un tesi investigativa la fondazione open si sarebbe comportata come un partito senza esserlo formalmente la fondazione open quindi non avrebbe rispettato le regole di trasparenza e tracciabilità a cui sono soggette le fondazioni quali organi di partito per questo motivo matteo renzi maria elena boschi luca lotti marco carrai e alberto bianchi ed altri sono stati rinviati a giudizio a vario titolo per finanziamento illecito ai parti traffico illecito di influenze corruzione ed altro nel corso delle indagini si sono verificate delle fughe di notizie documenti personali della famiglia renzi sono arrivati alla stampa in particolare gli estratti del conto personale di matteo renzi e una mail personale di tiziano renzi al figlio matteo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!